Che cosa facciamo ad Accademia 09? Beh, tante cose. Diamo strumenti validi a chi ha idee e voglia di fare ed ha bisogno di un punto di partenza per immaginare il suo punto di arrivo. E poi? Beh, poi prendiamo possesso di un centro commerciale intero per settimane. Viviamo insieme per settimane, studiamo per settimane, mangiamo insieme e condividiamo tutto. Perché Accademia 09 è così. Un insieme di persone, anime, che seppur con obiettivi diversi combattono tutte insieme per raggiungerli. E sapete come lo fanno? I nostri allievi sanno quali sono le due parole chiave. Non è vero? Con entusiasmo e passione. E poi ci sono quei momenti in cui ci sono davvero troppe cose da fare. Le produzioni sono tante, il tempo è poco, ma quando ci si mette in gioco tutto passa. Sì, perché Accademia 09 è incasinata, ma è bella così. E poi che cosa c'è? Beh, poi si accendono le luci, si apre il sipario, parte la musica e il cuore batte e batte e tutto il casino che ci circonda torna ad avere senso. L'impegno, il sacrificio, lo studio, le serate non fatte perché bisognava studiare non sono niente rispetto alle emozioni che si provano. E la gente potrà dire che siamo pazzi, ma qualcuno diceva, tutti i migliori sono matti, non siete d'accordo? E poi si intervista Liam Gallagher così, perché alle cose ci si arriva, basta solo crederci. È l'esperienza, il vero marchio di Accademia. Sì, e poi c'è Mara. Battute ripetute fino all'esaurimento, emozioni che cambiano, la musica, il cuore, l'anima, la voce. Tutto questo dà senso a ciò che siamo. E poi c'è Juan. Juan che ha paura di guardarsi, di affrontarsi, di capire davvero chi siamo o forse di chi vorremmo essere. Già, certo. Lezione nei licei. Open day. Accademia è l'insieme di insegnanti, soci, staff, allievi. È l'insieme di tutti. E poi che altro facciamo? Che altro? Beh, forse basta così. Insomma, a noi qui in Accademia 09 piace fare. E ci piace festeggiare il Natale, perché il Natale si festeggia in famiglia. Ci vediamo nel 2018, amici. Ah, a proposito, auguri.